Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, dovremo parlare di diverse notizie anche dell'incidente mortale avvenuto a Santa Maria Maddalena sabato mattina, ne parleremo a breve e dovremo parlare anche però di politica, gli argomenti che tratteremo parleremo anche di nuove nomine nell'ambito ufficiali dei carabinieri di Ferrara, li conosceremo e poi diversi argomenti tratteremo nel corso del telegiornale anche delle notizie della provincia ma anche per la SPAL che venerdì sera ha perso per 3 a 0 contro il Perugia ma apriamo quest'edizione con l'incidente mortale avvenuto a Santa Maria Maddalena nel Rodigino in via Pepoli dove un giovane ragazzo di 22 anni Filippo Pregnolato ha perso la vita a seguito di una fuoriuscita di strada probabilmente autonoma e senza il coinvolgimento di altri mezzi poco dopo l'alba a dare l'allarme un passante ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per lui sull'incidente indagano i carabinieri il ragazzo era titolare della pescheria della frazione di Occhiobello in cui lavorava insieme alla famiglia molto conosciuto sul territorio Pregnolato era anche un grande tifoso della SPAL tutta la comunità di Occhiobello è scossa per la perdita di questa giovane vita così l'amministrazione comunale di Occhiobello attraverso la sindaca Irene Bononi ha affidato un messaggio di cordoglio e di vicinanza alla famiglia del giovane e adesso passiamo alla politica la campagna elettorale per l'elezione del prossimo presidente della regione Emilia Romagna entra sempre più nel vivo la candidata civica per il centrodestra Elena Ugolini in un programma televisivo ha parlato del futuro della regione e anche e molto di sanità allora che cosa ha detto lo sentiamo dobbiamo cambiare totalmente il modo di governo dell'Emilia Romagna così intervenuta in un programma televisivo nazionale Elena Ugolini candidata civica per il centrodestra alle regionali in Emilia Romagna ho deciso di candidarmi perché la nostra regione non ha più attenzione nei confronti delle persone ha detto e ha toccato diversi temi l'Emilia Romagna è la regione dove ci sono più giovani immigrati occorre fare tanto di più per l'integrazione ha sostenuto la candidata secondo cui bisogna mettere la persona al centro anche in ambito sanitario oggi il malato è un viandante che vaga di porta in porta senza punti di riferimento certi sottolinea Ugolini che fa l'esempio di un anziano solo che deve sapere chi chiamare deve sapere da chi farsi aiutare il metodo proposto da Ugolini dice verrà adottato in tutti i settori dell'economia reale finanziaria fino alla cura del territorio la quale si chiede Ugolini in chiusura di intervista come mai la regione da anni sarebbe bloccata sulla costruzione di dighe di invasi di canali e la pulizia dei fiumi oltre a costruzione di invasi secondo Ugolini quelli che lei chiama i fanatici ambientalisti bloccherebbero le infrastrutture che mettono in sicurezza il territorio e quindi le persone. E la politica per passione o per mestiere che sia richiede sempre una lunga preparazione se ne sono detti convinti Emanuele Fiano 16 anni in Parlamento ed Edoardo Accorsi sindaco trentenne di Cento durante un incontro alla festa del Partito Democratico a Ponte Lago Scuro poche sere fa. Io credo assolutamente di sì credo che sia per chi si candida a rappresentare le comunità o ad assumere degli incarichi di rilevanza la preparazione è un elemento necessario e non è non è tutto serve la preparazione credo che serva cultura la cultura non solo nella sua dimensione nozionistica ma anche nella capacità di porsi delle domande delle riflessioni e servono indubbiamente anche delle attitudini personali caratteriali per prendersi l'impegno di governare la cosa la cosa pubblica ma senza la preparazione la preparazione è quella bussola che ti permette di trovare una direzione e soprattutto di rimanere saldo quando il mare è in tempesta. Che cosa ha chiesto il sindaco di Cento agli assessori della sua giunta per diventare assessore? Ma ho chiesto intanto amore per il proprio territorio a nessuno di pensare ai propri destini personali e ho chiesto di iniziare un servizio insieme a me per i nostri cittadini e per la nostra comunità e la preparazione e anche la preparazione ma questa non è stata tanto una richiesta quanto una valutazione fatta dal sindaco nel nominare la giunta nel senso che io sono partito da due presupposti appunto delle persone credibili che rappresentassero delle parti della nostra comunità quindi che conoscessero la città e che avessero la preparazione adeguata per essere all'altezza di un compito molto molto complicato. Che ci sono molte cose che stanno accadendo nel mondo, guerre, disastri, ambiente, cambiamento del lavoro, cambiamento della comunicazione ovviamente non è che tutto quello che sta succedendo è stato previsto prima, però ci sono degli strumenti nelle nostre radici che ci possono assolutamente aiutare, per questo io l'ho chiamato piccola guida perché possiamo essere guidati da quegli esempi. È vero, ultima domanda, il politico che ha responsabilità così importanti è probabilmente l'unico, vorrei chiamarlo professionista, comunque l'unico personaggio che ha un ruolo pubblico di peso per il quale non è prevista una preparazione obbligatoria, un esame, basta il consenso, ma il consenso sappiamo che è legato a variabili a volte molto strane. Ma questo però è assolutamente vero ma secondo me è sempre successo, secondo me chi è stato in Parlamento prima di me avrà avuto anche lui la sensazione che alcuni colleghi che incontrava, magari di altri partiti non avevano la benché minima preparazione o cultura o si sarà rimasto scioccato da percepire che non conoscevano alcuni fatti essenziali della storia di questo paese, dell'evoluzione culturale, politica, sociale di questo paese, però io penso che in questo mondo noi dobbiamo continuamente rivalutare la cultura, in questo caso la cultura politica, ma non è solo la cultura politica, c'è anche la cultura in generale. Noi dobbiamo essere all'opposto di quel ministro del governo. Presentati sabato mattina due nuovi ufficiali dei carabinieri a Ferrara e Provincia. Il comandante provinciale dell'arma Alessandro Di Stefano ha presentato il nuovo comandante del reparto operativo Luca Treccani che lascia così il comando della compagnia di Comacchio a Lucilla Esposito che sarà la prima ufficiale donna nella storia dei carabinieri di Ferrara. Entrambi ricopriranno ruoli quindi molto importanti per l'arma. Sentiamo l'intervista. Devo dire che sono estremamente soddisfatto di poter annunciare questo periodico cambio che c'è nell'arma dei carabinieri. Da lunedì il tenente colonnello Treccani assumerà il comando del reparto operativo dei carabinieri di Ferrara e quindi sarà responsabile di tutta l'attività di polizia giudiziaria nell'ambito della provincia. Parallelamente a Comacchio assumerà il comando il tenente Esposito che è un ufficiale di estremo valore con già importanti esperienze passate nella città di Venezia e di Torino. Per noi e per me è una soddisfazione avere per la prima volta nella provincia di Ferrara un ufficiale di sesso femminile che andrà a risaldare quelle che sono le capacità di risposta dell'arma dei carabinieri a tutte quelle fenomenologie criminali particolarmente odiose e che hanno come vittime le donne. Parliamo di codici rossi principalmente fenomenologia molto presente nel territorio della provincia. Avere un ufficiale di sesso femminile sicuramente costituirà un valore aggiunto per le capacità di empatia e di sensibilità che le donne dell'arma hanno nell'affrontare queste tematiche. Quindi il mio grosso in bocca al lupo ai due colleghi per gli onerosi incarichi che andranno ad assumere e la conferma della mia soddisfazione per aver avuto la possibilità di continuare ad avere due ufficiali di primo piano. Ovviamente vorrevo ringraziare tutti i miei militari, le donne e gli uomini dell'arma di Comacchio che mi sono state vicine perché nessun comandante può brillare senza avere accanto a sé le proprie stelle e sono stati i miei uomini, le mie donne e i miei uomini che adesso affido alla collega esposito. Quindi ringrazio in primis i comandanti di stazione che ricordo per quanto riguarda la compagnia di Comacchio, che sono Comacchio, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi, Mesola, Codigoro e Lago Santo e Goro, quindi sette comuni. Sono molto contenta di questo incarico, sarà sicuramente un incarico che affronterò con entusiasmo e sarà per me una sfida perché ricevo un testimone importante dal mio predecessore, dal tenente colonnello Treccani. In questi giorni ho avuto modo di poter già conoscere un po' il territorio e girare nei vari reparti che saranno alle mie dipendenze, le stazioni carabinieri e il NORM. Ho potuto constatare fin da subito che eredito un reparto sicuramente efficiente e dall'esterno ho potuto percepire un ottimo rapporto con le istituzioni locali. Torniamo ora a parlare dell'alluvione in Romagna del 2023 perché a Ravenna si indaga sulla prevedibilità e la prevenibilità. Sentiamo. La procura di Ravenna ha dato in carico a tre esperti del Politecnico di Milano di far luce sulle alluvioni che nel maggio dell'anno scorso hanno flagellato il territorio della Romagna. Si tratta di un geologo, un meteorologo e un ingegnere idraulico. Nell'ampio quesito formulato, nell'ambito di un fascicolo aperto contro ignoti per disastro colposo, si chiede in buona sostanza di determinare la prevedibilità dell'evento e la prevenibilità degli effetti. Lavori al Via Settembre, lo studio su allagamenti e inondazioni sul territorio Ravennate potrebbe essere uno dei primi del genere, anche perché il fenomeno è stato così ampio che è difficile trovare qualcosa di analogo. Occorrerà diverso tempo, dato che la documentazione raccolta dall'inquirenti è immensa e gli accertamenti tecnici complessi. La seconda e più grave delle due alluvioni che a maggio 2023 avevano colpito la provincia Ravennate aveva provocato sette morti. Nella prima alluvione di maggio si era registrata una vittima per la quale era stato aperto un fascicolo senza ipotesi di reato. Sanità adesso, le aziende sanitarie ferraresi riorganizzano l'attività chirurgica e lo fanno creando una lista unica con l'obiettivo di ridurre ormai l'annoso problema dei tempi di attesa. Cosa significa questo? Lo sentiamo. Ridurre i tempi d'attesa anche sul fronte degli interventi chirurgici si può per le aziende sanitarie ferraresi. Tra le azioni messe in campo già da inizio anno c'è la riorganizzazione dell'attività chirurgica con la gestione della lista unica per patologia a livello provinciale. Questa riorganizzazione prevede la possibilità di effettuare alcune tipologie di interventi a basse e media complessità, anche ambulatoriali, nelle diverse strutture provinciali. Il cittadino ha dunque la possibilità di scegliere dove eseguire l'intervento anche in relazione al tempo di erogazione. Secondo le aziende sanitarie già nel primo semestre del 2024 gli interventi di chirurgia generale a media e bassa complessità sono aumentati del 5,2% con tempi d'attesa medi di 90 giorni a fronte di un target richiesto di 180 giorni. I primi risultati stanno arrivando secondo le aziende sanitarie e i dati evidenzierebbero un miglioramento dei tempi d'attesa. Prossimo obiettivo è stato detto unificare il sistema di gestione delle liste d'attesa tra ASL e azienda ospedaliera anche dal punto di vista informatico. Il relativo progetto gode di fondi PNRR dedicati. Cambiamo ancora argomento al via la campagna abbonamenti annuali TIPER per il trasporto pubblico. Quali le novità le sentiamo? In vista della ripresa dell'attività a pieno regime dopo le vacanze estive è partita in questi giorni la campagna abbonamenti annuali TIPER 2024. Da quest'anno, dicono dall'azienda, grazie alle nuove tecnologie è più facile acquistare un nuovo abbonamento, ricaricarne uno già esistente. Tramite il sito TIPER poi è sempre possibile prenotare un appuntamento in biglietteria con il sistema salta la fila. I punti TIPER per tutto il periodo di maggior afflusso della campagna abbonamenti, osserveranno orari di sportello più estesi del consueto. A Ferrara la biglietteria resterà aperta fino alle ore 20 nei giorni feriali dal 2 settembre al 12 ottobre. Disponibili anche le consuete formule di agevolazione, dalla possibilità di raterizzare l'importo, agli sconti per i giovani under 27 e per utenti senior, fino alle agevolazioni per famiglie, confermato l'abbonamento gratuito dedicato ai minori di 19 anni se corrispondono requisiti specifici. Andiamo adesso in provincia alla fontana monumentale di Copparo. È stata inaugurata giovedì una cerimonia partecipata che ha salutato così il ritorno allo splendore dopo il restauro. Vediamo le immagini. I copparesi non sono voluti mancare a un appuntamento particolarmente significativo per il territorio. In tanti hanno partecipato alla restituzione della fontana monumentale dopo i lavori di restauro. Autorità civili, militari e religiose, il mondo associativo e numerosi cittadini hanno salutato il ritorno allo splendore e al funzionamento di quello che è un emblema per il comune, luogo della memoria e custode dei valori rappresentati dai nomi dei caduti nei conflitti della prima metà del Novecento. Il nostro essere presenti qui è il nostro essere comunità. Ha aperto la cerimonia e il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, dopo il primo cittadino, hanno parlato i tecnici che hanno lavorato per ridare a Copparo la sua fontana. Il progetto si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana finanziato dal PNRR che coinvolge tutto il centro storico. Il comparto impiantistico, sia idraulico che elettrico, è stato realizzato con un occhio di riguardo alla sostenibilità e affiancato da una tecnologia che permette di gestire e monitorare i consumi e le funzioni anche a distanza. Dopo i loro interventi e la benedizione di Don Daniele Panzeri, il conto alla rovescia ha scandito l'accensione della fontana monumentale, illuminata con i colori copparesi, per arrivare, attraverso i giochi d'acqua e i colori, al tricolore che ha onorato i caduti, salutati dal vino d'Italia e dall'applauso collettivo. Sport adesso Spal, sconfitta pesante per i bianco-azzurri venerdì sera a Perugia, un 3-0 nella seconda giornata di campionato che ci racconta, così Alessandro Sobrani. Formizano passa in vantaggio, esattamente al minuto 12 con Torrasi liberato sul centro-sinistra e nell'area della formazione ferrarese da Silla, le altre due reti realizzate nel secondo tempo da Montevago di testa, su traversone dal fondo di Bartolomei e al 42-100 da Bonclos dalla sinistra di Giraldi con un tocco a due passi dal secondo palo, quello alla sinistra della porta difesa da Melgratti, che tra l'altro è il risultato tra i migliori nelle file della formazione ferrarese di Rimo al fianco di Rao. Ma è difficilissimo commentare questa gara, ora sono già le 23, non abbiamo ancora alcuna notizia ufficiale di mercato di quelle che sono le attese operazioni, che erano le attese operazioni di queste ultime ore, per cui può capitare di tutto, ma ce l'auguriamo e soprattutto in questo momento parliamo della gara, una gara condizionata appunto dalla campagna acquisti e eccezioni, basti pensare che in panchina oggi il tecnico Andrea Dossena ha potuto contare solo su quattro giocatori di movimento, quindi oltre che sui due portieri Galeotti e Meneghetti, se intenda che sarebbe entrato nel corso della ripresa, Nado la sua volta è entrato nella seconda frazione di gioco, Obreit e Kane che a sua volta è entrato in campo negli ultimi minuti, quindi una gara che è stata affrontata anche psicologicamente in situazioni molto difficili per la spalla con una difesa a quattro che sulla cenisca ha visto impiegato basso le posizioni inisuali per lui, tant'è che Cisco schierato da Formisano sulla destra, ovvio fronte offensivo, ha fatto letteralmente ciò che ha voluto. Antenucci isolato in attacco, visto l'infortunio di Carlson così come in difesa la spalla non ha potuto contare su Sayani, per questo è stato schierato a completare il reparto con i centrali Arena e Bacchini che sul settore desco Bruscagin appunto è stata schierata a schierare sulla corsia Mancina-Bassoli. Centrocampo Cadrezza ancora non al meglio, se l'è cavata Zammarini, tanta corsa ma poco costrutto da parte di Avua, mentre il tridente d'attacco come detto in precedenza ha visto discreta prestazione di Rao, qualche spunto di Dorazio, Antenucci ha fatto quello che ha potuto, tra l'altro è stato l'autore di un colpo di testa proprio sul finire del primo tempo dopo un tentativo di Dorazio che avrebbe potuto portare la SPAL al pareggio, ma ci sono stati due grandi interventi di Gemello che ha salvato la copia da rete e probabilmente ha definitivamente evitato al Perugia di correre qualche rischio di essere rimontato nel corso della ripresa. Dicevamo SPAL che con questa panchina corta non ha potuto contare su Ilio, Teripaldelli, Lamantia, oltre a Calapai che era squalificato l'ultimo arrivato Sottini, non c'erano neanche Caneglio e Buckel, soprattutto quest'ultimo dovrebbe essere ceduto. Usiamo sempre il condizionale perché ancora non sono arrivate notizie ufficiali da Milano dove sta operando Ades Casella e ci auguriamo perché è assolutamente indispensabile che a parte le cessioni date per scontate di Lamantia e Teripaldelli che si dice ormai abbiano raggiunto accordi rispettivamente con il Catantaro e con il Bari. Ci aspettiamo tanti arrivi a partire da quello di Mignanelli. L'asfalto deve assolutamente rinforzare il pacchetto offensivo, l'attacco poi centralmente servono poi due esterni mancini che possano già stare sul settore destro, quindi assolutamente da inserire anche al centrocampo un altro giocatore dovrebbe essere El Caduri, quindi con l'arrivo di Calapai poi la squadra potrebbe più o meno essere completata. Se qui poi non arriveranno giocatori di discreta caratura i pericoli sarebbero molto molto elevati vista anche la situazione odierna. Certo è, e questo non lo possiamo nascondere, che arrivare all'ultimo momento e dover anche scendere in campo in questa situazione non è stato un bel vedere ed è stata tanta sofferenza per i circa 200 tifosi giunti da Ferrara e non parliamo anche per i giocatori che Dossena ha impiegato, che hanno dato tutto quello che era nelle loro possibilità, ma nel calcio moderno ricordiamoci quando si va in campo con solo quattro possibilità di effettuare cambi, la situazione è molto molto deficitaria. E con questo è tutto, grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.